Iniziamo a raccontarvi nel dettaglio i motivi per cui ho scelto, abbiamo messo quel prefisso fuori dalla casta, di chiedere la cancellazione dall'albo dei professionisti all'ordine dei giornalisti e quindi di spogliarmi di quell'abito che tanto mi è stato caro, carissimo, è un pezzo del mio cuore come avete potuto sentire. Dunque, Tino, abbiamo scelto un posto non casuale, ovvero Piazza Amoro. Abbiamo scelto Piazza Amoro perché adesso vi diciamo due dei motivi tra loro molto simili seppur molto diversi anche, adesso capirete. Vi faccio sentire intanto una minaccia ricevuta ieri, no? Dal papà di un ragazzo protagonista di un pezzo di cronaca, un pezzo scritto di cronaca, tra l'altro scritto citando la fonte dalla quale avevamo preso il pezzo. Sentite? Se non avete capito Tino cosa ha detto? Ma vatsenbelaka tra le 5 e le 6 volte, ma vatsenbelaka significa che mi deve tagliare la testa o a calci, non lo so cosa avrebbe voluto fare. E di queste telefonate ne abbiamo prodotte a decine, a decine ne abbiamo prodotte, non è un eufemismo, a decine. E l'abbiamo fatto anche con una certa apprensione perché si tratta comunque di minacce in alcuni casi anche molto serie. L'abbiamo pubblicato anche per condividere pubblicamente quello che ci capitava. Ma devo dire la verità, questa cosa non è mai stata accettata. Ma perché mi mandi a fare il culo così? Ma chi ti sta calcolando? Ma chi ti sta calcolando? Ma chi ti sta calcolando? Poi arriveremo alla seconda ragione. Dunque, queste telefonate le abbiamo pubblicate, condivise. Mai, e dico mai, mai, nemmeno una telefonata. Non dico le lettere di solidarietà, i comunicati stampa, no, no, in nessun modo. Un SMS! Un SMS, una telefonata, un colpo di telefono per dire tutto a posto, state bene, ma anche solo questo, state bene. Qualcuno ha dato seguito poi a quelle minacce, anche perché voi non lo sapete quante di quelle minacce poi sono state stoppate su un filo del rasoio, no? Ma in quel caso la categoria, diciamo, è rimasta sempre silente a ciò che ci capita. Non lo so per quale motivo. E per categoria, non intendo i colleghi. Devo dire la verità, a vario titolo, qualche collega ogni tanto si è spinto a farmi una telefonata, a mandarmi un messaggio Whatsapp. Insomma, a capire come stessimo. Io parlo proprio della categoria, della rappresentanza dei giornalisti. Neppure si può dire che non si sapessero, perché, dai, per piacere. Non è che dobbiamo venire noi a dire, Presidente, consiglio, vedi che ci è scapitato sta cosa, non è che puoi scrivere come anche qualcuno fa, eh? Come anche qualcuno fa. Detto questo, c'è il secondo motivo che attiene sempre a minacce e aggressioni. E sembra quasi che le nostre minacce, le nostre aggressioni, qui in Piazza Moro, Tino, per esempio in Piazza Moro, ma è successo in altre parti, e ti parlo di minacce fisiche, non siano importanti. Cioè, se tu stai facendo un'intervista e ti buttano una bottigliata in testa, ok? Non è importante. Se stai qui e denunci di aver visto puntato addosso un coltello, un collo di bottiglia, se ti sei trovato invece in una situazione di grande disagio e difficoltà, mentre ci sono delle risse che tu stai raccontando, quindi non te la stai andando a cercare, no? E anche fosse, stiamo qui, come avete visto prima, a denunciare una situazione di pericolo, non solo per noi. Proprio ieri abbiamo ricevuto una telefonata da parte di alcune ragazze che venendo a prendere la macchina qui al parcheggio sono state minacciate con un coltello da parte di un parcheggiatore migrante che aveva voglia di soldi e ha visto tre ragazze sole, ha pensato bene di minacciarle con un coltello. Se riusciamo vi faremo sentire anche la testimonianza di queste ragazze. No, perché tu sei Antonio Loconte e sei quinto potere. Ora, non voglio fare la vittima, anche perché diversamente non mi sarei sfilato in questa maniera. Invece voglio che la gente capisca le difficoltà. Noi viviamo sempre con molti più oneri rispetto agli onori di essere dei giornalisti, a meno che non si tratti di altre categorie di giornalisti, ma vi racconteremo anche di quello. Sembra quasi, adesso faccio un paragone, un parallelo particolarmente impegnativo, sembra quasi che noi indossassimo delle minigonne, immaginate, lo so, la scena era capricciante, dei tacchi a spillo, truccatissimi, e andassimo in giro, come dice qualcuno di certe donne, perché questa è la verità, se la cercano. Cioè una donna così viene stuprata, se l'è cercato, viene stuprata, se l'è cercato. E allora io mi pongo un problema serissimo sul fatto di andarsi a cercare le mazzate. Tant'è che qui siamo venuti sempre per raccontarvi dei fatti di cronaca, non così alla berlina, all'arma bianca per provocare. Anche qui ci sono delle persone che si stanno facendo i fatti propri, hanno capito che stiamo puntando da tutt'altra parte, poi ci sono i faccino rossi che avete visto. E quando quei faccino rossi poi perdono l'embolo, gli parte l'embolo, diventa pericoloso anche stare qui. Non ci sembra di aver letto, ma non nei nostri confronti, in generale quando è successo qualcosa del genere, una campagna forte, poderosa, rispetto a chi sta per strada a fare questo mestiere. In una città dove purtroppo non c'è tutta questa sicurezza, non solo percepita, lo diciamo anche alle passate amministrazioni, oltre che a questa, che in qualche modo abbiamo ascoltato essere in disappunto sotto certi aspetti, compreso quello della sicurezza cittadina. Bene, e quindi che facciamo? Siccome noi veniamo a denunciare più di altri quello che accade qui, siamo delle zoccole che meritano di essere stuprate. Ah, così la pensate. Questo è il pensiero che molti si fanno, ed è questo il motivo per cui, se capita a quelli lì, perché io so anche che qualcuno a quelli lì non è mai capitato. Allora, come possiamo sentirci? Come posso sentirmi? Perché io parlo a nome mio, non parlo a nome della testata giornalistica, che per tanti motivi, anche di opportunità, rimarrà una testata giornalistica. Infatti ci stiamo anche riorganizzando per questo. come mi posso sentire parte di un qualcosa che aspira a crescere, piuttosto che invece a isolarsi? Come sta facendo? E isolarsi non nella categoria stessa, isolarsi con il mondo esterno. Perché noi giornalisti siamo sempre più lontani, ancora lo sono, fino a quando non arriva, quindi mi dico in questo modo, seppure resterò giornalista per sempre, però tecnicamente sono ancora giornalisti. I giornalisti stanno sempre meno per strada, dunque sono sempre meno vicini alle persone. E dunque è chiaro che adesso viviamo la più bassa considerazione possibile tra l'opinione pubblica. Ci sono dei giudizi e dei commenti, anche pubblici, che sono imbarazzanti rispetto alla categoria, ma noi non ci siamo mai posti una domanda. Tanto se capita a quelli lì può andare, o se quelli lì hanno quelle minacce di quel tipo, di Aprilacab, di Arom, di Aspare, di Acid, di Afefor, Saccia do Yavet, te le sto dicendo così in gergo, perché così vengono fa, dimmi? Di Atagliadapal. No, di Apghiap. Ah, di Apghiap. O di Asparengap. Sono due cose completamente diverse, seppure fatte dalla stessa famiglia criminale della città di Bari. E ora chiudo questo aspetto nella mia decisione sul fatto dell'esserse andata a cercare lo stupro, l'aggressione. C'è stato un caso a Bari molto importante che coinvolgeva una giornalista di Rai 1, un volto noto del giornalismo nazionale, una con un curriculum di tutto rispetto. E in quella sede io mi permisi di dire che quella giornalista di fatto era andata a cercarsi la mazzata, cioè lo schiaffo, dall'allora moglie del boss. Perché se tu vai a casa di una persona con il morto dentro, che fuma ancora, è brutto. È chiaro che la reazione non può essere una reazione diversa. A noi che invece in quella strada e in molte zone pericolose della città ci sguazziamo, riusciamo a cavarcela. Ma non come diceva all'epoca qualcuno perché siamo mafiosi, siamo collusi con la mafia. No, no, perché noi la combattiamo. Ci prendiamo anche... Voi non avete idea di cosa non condividiamo con voi. No? Non avete idea di cosa non condividiamo con voi. Ci prendiamo anche tanti schiaffi che non sono quelli veri, non sono solo quelli che voi vedete. Proprio per questa ragione. Perché contestiamo e contrastiamo questi fenomeni criminali. E non lo facciamo semplicemente in questo modo superficiale, tanto per avere la gloria. Bene, in quel caso, quando effettivamente quella collega si era cercata questa aggressione e l'aveva avuta, e l'aveva avuta, bene, lì c'è stata una sommossa. Ci sono stati cortei, dichiarazioni. E dunque io mi chiedo come sia possibile usare sempre due pesi e due misure a seconda di chi riceva una telefonata minatoria, di chi riceva uno schiaffo, di chi abbia mostrato in faccia un cortello, di chi... Insomma, perché quelli lì sono la feccia del giornalismo ed altri invece che casualmente capitano in situazioni di pericolo o se le vanno a cercare, hanno necessità e meritano il sostegno di tutta la categoria. Ma perché è nazionale? L'ASA perde, è successo anche tante volte a livello locale. Dunque questo è uno dei motivi che mi ha spinto a quel prefisso fuori dalla casta e alla volontà, nonostante tutti i sacrifici fatti e tutto l'amore che provo per questo mestiere che resterà per sempre nel mio cuore ha la volontà di chiedere la cancellazione dall'ordine dei giornalisti. Ora, non fraintendete, l'ordine con cui ve li diciamo non sono l'ordine di importanza, è un ordine casuale. Oggi eravamo qui, dovevamo fare altro e abbiamo approfittato perché questo era il luogo giusto per dire questa cosa. Poi diremo tanto altro, diremo anche di alcune redazioni, diremo anche delle paghe, diremo ancora di tante cose che ci hanno... Le marchette! Le marchette! Ah, è un tema che a me fa molto specie, questo perché tu lo sai quanto noi nonostante ne abbiamo fatte alcune ma sudando le sette camicie per portare il pane a casa, poi ve ne racconteremo alcune che sono veramente sfiziosissime nel silenzio generale. Dunque questi più o meno ma ce ne sono anche altri sono i temi che stiamo cercando di affrontare per fare in modo che una categoria così illustre, così meritoria continui a mordere il potere e non invece a farsi fare le coccole sotto il mento in cambio di qualche soldino. Tino! Tino linguetto! Tino pensatore! Per ora per ora e solo per ora è quasi tutto perché noi non abbiamo niente da nascondere, non abbiamo mai avuto niente da nascondere e quindi metteremo come diciamo a Bergamo un quadro in piazza e che piazza in modo tale che tutti possano avere e beh smettila in modo tale che tutti possano avere anche gli elementi necessari per valutare una decisione che adesso sembra da folli ma io in certi lo so che sono folle comunque che pochi l'avrebbero fatta in ugual misura perché molti colleghi mi stanno chiamando per dirmi stai facendo bene no hai ragione però non a diciamo sostenere pubblicamente va bene ma io non ho mai avuto sostegno pubblico da nessuno quindi figurati se lo devo avere adesso per ora e solo per ora in attesa della ratifica della cancellazione è quasi tutto per ora bravo bravo continua perché tu fai delle riprese veramente bellissime grazie grazie grazie